Oggi tocchiamo una vetta altissima, un monte Everest della matematica, che è David Hilbert, che è diventato scioccio di quella staccademia nel 1903, tre anni dopo aver lanciato i famosi 23 problemi del secolo a un convegno di matematici a Parisi del 1900, e di 23-22 sono stati risolti, uno quasi subito, uno alla fine del 1900, il famoso teorema di Fermat, e uno invece è lì che aspetta qualcuno che lo risolva, che è la congettura di Riemann. Chi la risolve, tra l'altro, vincerebbe anche un milione di dollari del premio Clay, quindi può essere un'idea di andare a vedere di cosa parla e provare a farcela. Sono indirizzato ai giovani, soprattutto perché i vecchi. Cosa ha fatto Hilbert, ce lo dirà il relatore, che ho un grande piacere e onore di presentare, che è il professor Gabriele Slolli, socio di questa accademia, penso che tutti voi lo conoscano. Mi sono a ricordare che è stato docente in varie sedi, in particolare all'Università di Torino, però ha finito la carriera alla Scuola Normale Superiore di Pisa, dove è stato ordinario di filosofia della matematica. Ha insegnato, ripeto, al Politecnico di Torino, a Torino, ma anche a Salerno, a Genova, su cattedre di tipo diverso, anche matematica, informatica, filosofia. Ha studiato, soprattutto, se non sbaglio, spero, la teoria astigmatica degli insiemi, l'applicazione della logica all'informatica, l'intelligenza artificiale, le scienze cognitive, e la storia e la filosofia della matematica e della logica. È autore di, penso, più di 20 libri, di alcuni consiglio la lettura a tutti, perché non sono libri tecnici di logica, dove è difficile capire qualcosa, ma la Crisali della Farfalla, per dirne una, o Q&D, era dimostrando, di quelli che ricordo, ne ho tanti, non li ricordo tutti, ma il riso di Talete, sono libri fruibili da un pubblico anche non matematico, molto belli, qualcuno anche divertente, se vogliamo. Quindi è un grande onore per me, è un grande piacere sentire cosa si dirà su questo gigante che è David Hilbert. Grazie. Grazie. Questa era la voce di Hilbert che ci diceva che la matematica è lo strumento di mediazione tra la teoria e la prassi, tra il pensiero e le osservazioni, nel suo bel accento prussiano. La struttura della mia esposizione è così articolata, faremo una veloce rassegna dei principali campi della matematica e della fisica in cui ha dato contributi importanti, una riflessione su come abbia cambiato il modo di fare matematica e teorizzato anche, ricorderemo il lavoro sui fondamenti della matematica e la logica e poi alcune informazioni sulla vita e sulla personalità. Laurea e abilitazione a Königsberg esordisce subito risolvendo il problema degli invarianti delle forme annarie. Le forme annarie sono i polinomi omogenei, gli invarianti sono delle espressioni algebriche con i coefficienti delle forme, pensate al discriminante, che vengono moltiplicati per un fattore se si applica una trasformazione lineare. Vent'anni prima circa, Gordon aveva dimostrato per le forme binarie che esisteva un numero finito di invarianti da cui si potevano ottenere tutti gli altri, ma per n maggiori di 2 i calcoli erano troppo complicati, non si era fatto nessun passo avanti, Hilbert risolve in un colpo il problema in tutta generalità per ogni n dimostrando che per ogni n esistono delle basi finite di invarianti, con una dimostrazione particolare, puramente esistenziale, esiste, ma senza descrivere questi invarianti né anche dire quanti sono. In seguito, in un articolo successivo, porrà almeno un limite al grado degli invarianti. Klein pubblica l'articolo sui matematici annali dicendo che, nonostante un giudizio negativo di Gordon, è il più bell'articolo di algebra apparso sugli annali. una ventina d'anni dopo, una ventina d'anni dopo comincia a circolare la leggenda che Gordon avrebbe esclamato questa non è matematica, è teologia. C'è invece molta matematica in questo lavoro, come ci dice Claudio Procesi, che Hilbert trova una serie di teoremi generali sulle equazioni algebriche, introduce nozioni fondamentali come sistemi di parametro, normalizzazione, punti instabili, creando i metodi moderni dell'algebra commutativa che avrebbero avuto poi un ruolo essenziale nella rifondazione della geometria algebrica. Hilbert resta alcuni anni a Königsberg come docente, anche se gli si dice che non è un posto adatto a lui, ma lui compensa l'isolamento con frequenti viaggi in Germania e in Francia come era abitudine. Dal 95 comunque è a Göttingen su iniziativa di Felix Klein e la società matematica tedesca gli commissiona un rapporto sulla teoria algebrica dei numeri che esce nel 97. Un lavoro grosso anche questo di cui per esempio lo storico Rowe dice non è veramente un rapporto e una ricerca originale. Non solo fece una sintesi delle indagini precedenti ma di nuovo disegnò nuovi concetti che determinarono il corso delle ricerche in teoria algebrica dei numeri per molti anni a seguire. Quindi inizia con algebra e teoria dei numeri ma aveva l'ambizione di essere un matematico universale e per questo sfruttava l'attività didattica. i suoi corsi erano il principale mezzo per raggiungere questo scopo coprivano praticamente ogni area della matematica più avanzata del suo tempo e non solo di questo anche l'idrodinamica per dire un titolo non ripeteva mai lo stesso corso se possibile infatti alla fine di una serie di corsi diversi sulla geometria negli anni 90 sulle nuove ricerche pubblicò le Grundlagender Geometrie questo lavoro gli era stato commissionato nell'ambito delle celebrazioni per la posa del monumento a Gauss e Weber il fisico e il matematico vicini ma questo lavoro è diventato un monumento in realtà un monumento al nuovo modo di fare matematica oscurando quasi se si può dire addirittura gli elementi di Euclide non dobbiamo dimenticare anche risultati minori si fa per dire per esempio nel 1891 la costruzione geometrica della curva che riempie il piano che Peano aveva dimostrato soltanto analitico puramente in modo analitico nel 1893 da una nuova dimostrazione semplificata della trascendenza di E e di Pi greco nel 1908 dimostrerà la congettura di Waring in teoria dei numeri ma riprendendo il filo nel 1899 dimostra il principio di Dirichlet che era stato abbandonato per le critiche di Weistras ma Hilbert lo dimostra con ipotesi non impegnative per cui lo rende di nuovo uno strumento facilmente utilizzabile e nello stesso anno inizia a interessarsi di calcolo delle variazioni tenendo appunto un corso per la prima volta su questo argomento nel 1900 presenta la prima assomatizzazione dei numeri reali insomma non è un caso che non ancora quarantenne gli venga invitato a tenere una delle conferenze generali al congresso internazionale dei matematici di Parigi dove presenta la famosa lista dei problemi che spaziano su tutte le aree della matematica e anche della fisica e poi ancora più originale ci sono anche problemi sui fondamenti il primo problema è l'ipotesi del continuo il secondo problema è la dimostrazione della coerenza dell'aritmetica l'introduzione a questa conferenza è un saggio che io stamperei farei un fascicolo lo distribuirei a tutti gli studenti che si iscrivono a matematica perché capiscano che cosa dovrebbero incontrare discute tutti gli aspetti dei problemi le soluzioni soprattutto è interessante l'enfasi che pone sui problemi sulle soluzioni negative sulle soluzioni di impossibilità che costringono a inventare introdurre nuovi concetti nuovi strumenti perché quelli disponibili sono dimostrabilmente non adeguati il novecento è un anno di spartiacue nessuno avrebbe immaginato che l'autore dello Zalbericht avrebbe con la svolta del secolo praticamente voltato le spalle all'algebra e alla teoria nei numeri per affrontare problemi interamente nuovi in geometria abbiamo visto nel 99 equazioni integrali calcolo delle variazioni fisica matematica e allo stesso tempo avrebbe presentato la visione di una nuova impostazione assiamatica per la matematica e la fisica nel 1904 era appena scoppiata quella che si è chiamata poi la crisi dei fondamenti per la pubblicazione da parte di Russell dell'antinomia nel 1903 e Hilbert interviene subito con una proposta che lo fa diventare subito il faro il punto di riferimento a cui tutti guardano per aspettarsi una risposta ai problemi sollevati tuttavia non sviluppa l'idea non risponde alle critiche che muove per esempio Poincaré con un dibattito interessante in seguito la prima teoria nuova che crea è quella delle equazioni integrali che poi pubblica nel libro del 12 su questa fase dell'attività di ricerca di Hilbert Kaplansky ha così commentato il lavoro sulle equazioni integrali condusse direttamente alla ricerca del XX secolo in analisi funzionale mise le basi anche per quello sugli spazi a infinite dimensioni in seguito chiamati spazi di Hilbert facendo uso di risultati sulle equazioni integrali contribui allo sviluppo della fisica matematica con le importanti memorie sulla teoria cinetica dei gas e sulla teoria delle radiazioni ma il punto più alto di questa attività è nel 15 quando trova le equazioni del campo gravitazionale in contesto relativistico anzi spedisce il suo lavoro alcuni giorni prima dell'ultimo di Einstein della serie del 15 senza però avanzare mai pretese di priorità anzi aggiungendo una nota in cui dice che le equazioni differenziali della gravitazione che ne risultano dal suo lavoro sono mi sembra in accordo con la magnifica teoria della relatività generale stabilita da Einstein nei suoi ultimi scritti è rimasto comunque il nome di Hilbert nella problematica della relatività per esempio c'è una cosiddetta azione di Einstein Hilbert che è quella che permette di derivare l'equazione di campo nel 1924 Richard Courant un allievo di Hilbert pubblica il suo epocale metodi matematici della fisica e pretende che il nome di Hilbert compaia come autore anche se non aveva partecipato alla stesura ma a significare che il contenuto di quel libro era dovuto a Hilbert e il contenuto di quel libro fu utilizzato in modo molto fecondo dai fisici immediatamente nel 1924 Born Max Born usò delle conoscenze di questo volume le matrici in particolare per dare una versione comprensibile con la meccanica matriciale del lavoro di Heisenberg in seguito von Neumann e Weill tutti e due seguaci allievi di Hilbert dimostrarono l'equivalenza della meccanica matriciale con l'equazione dell'onda di Schrödinger von Neumann propose la prima fondazione della meccanica quantistica con gli operatori limitati in uno spazio di Hilbert bisogna ricordare che Hilbert si preoccupava di curare anche la crescita del gruppo di fisica oltre che di quello di matematica per esempio fece chiamare Carl Runghe Peter Debye o D.B. come si pronuncia aveva un assistente particolare che si faceva mandare dai fisici che lo tenesse aggiornato e gli spiegasse le ultime ricerche in fisica però nel 1917 aveva ripreso a interessarsi di fondamenti per la preoccupazione un po' dello sviluppo dell'intuizionismo per iniziativa di Brouwer e inizialmente anche di Weill che poi cambierà idea sviluppa l'idea del 1904 che ho accennato e questa comportava la necessità di formalizzare le teorie matematiche in modo da poter dimostrare le fare le dimostrazioni di non contraddittorietà con metodi combinatori metodi che fossero quasi manipolazioni di oggetti fisici come sono i simboli di fatto metodi che poi chiamerà in seguito finit finitisti in italiano quindi però per formalizzare le teorie dell'analisi c'era bisogno di un linguaggio e di una logica adeguati Hilbert studia quella di Russell e White non è convinto e allora decide con i suoi allievi Bernays e Ackerman mettendoli al lavoro di pensarci lui e ci lascia appunto il formalismo logico che adesso è diffuso e ancora usiamo e non solo anche l'impostazione della disciplina della logica matematica moderna di cui primo manuale possiamo dire è proprio il libro scritto da lui con Ackerman nel 1928 dunque abbiamo accennato già che Hilbert ha impostato e imposto un nuovo modo di fare matematica secondo lui due linee che potrebbero essere divergenti spesso lo sono ma in lui sono compatibili e anzi il suo lavoro è quello di renderle compatibili la prima linea è la piena accettazione delle astrazioni dell'infinito in breve del paradiso di Cantor come lo chiamava lui o la teologia come lo chiamavano gli avversari ritorna spesso su quelle dimostrazioni puramente esistenziali dicendo che il loro pregio sta proprio nel fatto che con esse si elimina la costruzione particolare e si riassumono con un'idea basilare più costruzioni diverse cosicché emerge soltanto quel che è essenziale per la dimostrazione con questa frase qualcuno di voi avrà capito che ci introduce già al seconda linea che è il metodo assiomatico Hilbert è stato uno dei teorici ce ne sono stati tanti in quel periodo ma uno dei più lucidi e decisi a sostenere il principio di questo metodo che è il fatto che i concetti di una teoria possono essere definiti sono definiti solo attraverso le relazioni che intercorrono tra di essi stipulate dagli assiomi un principio che sembrerebbe rinunciatario perché questa limitazione a questo modo di definire i concetti potrebbe sembrare una debolezza in quanto la conseguenza è che tutti i nuovi concetti hanno sempre una molteplicità di interpretazioni diverse non una univoca ma questa debolezza viene trasformata invece in un punto di forza rappresentato dalla famosa Butad che dice se con i miei punti dice Hilbert voglio intendere un qualunque sistema di enti per esempio il sistema amore legge spazzacamino allora basterà che assuma tutti i miei assiomi come relazioni fra questi enti di solito si usa la triade tavoli sedie boccali di birre ma questa è tradizione orale mentre in quella scritta c'è quest'altra triade nel 1917 Hilbert scrive un saggio molto importante sul pensiero assiomatico che vede come l'unica possibilità di ottenere il rigore non solo in matematica ma anche in fisica anzi in ogni campo conoscitivo in cui esaminandolo si può vedere che alla base dell'intelaiatura dei suoi concetti ci sono poche ben individuate proposizioni e queste sole bastano per costruire da esse secondo principi logici l'intera intelaiatura quando passa agli esempi sono quasi tutti di fisica in realtà per esempio nella statica il teorema sul parallelogramma delle forze nella meccanica l'equazione di Lagrange nell'elettrodinamica l'equazione di Maxwell al centro della teoria elementare delle radiazioni c'è il teorema di Kirchhoff sulle relazioni tra scissione e assorbimento nel calcolo della probabilità la legge degli errori di Gauss nella teoria di Gauss il teorema dell'entropia eccetera in prima approssimazione dice Hilbert questi teoremi fondamentali possono essere ritenuti come gli assiomi dei singoli campi conoscitivi ma viene il desiderio di spiegarli meglio quindi di dimostrarli a partire da altri teoremi e tuttavia queste dimostrazioni se le si esaminano sono semplicemente la riconduzione di questi teoremi ad altri che sono più profondi e così sono nati gli assiomi anche dell'aritmetica e della geometria che sono non le proposizioni più semplici ma quelle più profonde c'è una condizione necessaria per l'uso del metodo assiomatico ed è la dimostrazione della coerenza o non con traitorietà delle teorie per che motivo ci sono diversi motivi di diverso impegno certo si vogliono evitare si vuole evitare di mettere delle condizioni incompatibili che darebbero subito delle contraddizioni ma questo vale di più per le teorie fisiche dove le condizioni derivano da fonti diverse esperimenti pensiero in questo Hilbert era molto influenzato da Hertz c'è poi un altro motivo più valido per la matematica perché Hilbert difende sostiene la tesi che l'esistenza in matematica equivale alla non contraddittorietà questa idea riesce a farla accettare a molti anche a Poincaré per esempio oppure con sfumature e la espone in un memorabile scambio epistolare con Frege che all'uscita delle Grundlagen der Geometrie non capiva che cosa fossero questi assiomi di come li intendeva come li intendeva Hilbert ma c'è un altro motivo per l'importanza delle dimostrazioni di non contraddittorietà che è in realtà la base di quello che si chiama il programma di Hilbert svolto negli anni 20 ed è questo questo fatto questa intuizione che ha Hilbert e poi giustificazione e dimostrazione che se come voleva le dimostrazioni di non contraddittorietà per le teorie formalizzate che trattano dell'infinito vengono svolte con i metodi finitisti quelli metodi combinatori allora si può essere sicuri che le formule numeriche dimostrabili in questi sistemi che usano l'infinito sono vere e quindi per la loro natura stessa diventano dimostrabili finitisticamente il che vuol dire che l'infinito è utile come abbreviazione o semplificazione delle dimostrazioni ma non dà nulla di nuovo almeno nel campo delle equazioni numeriche per cui si può essere sicuri e asserire che la matematica è un apparato che applicato a numeri interi deve dare sempre equazioni numeriche vere Hilbert fino al 28 è convinto di poter fare queste dimostrazioni Ackerman ne aveva fatta una per un'aritmetica con la sioma di induzione un po' indebolito purtroppo si è visto che l'indebolimento era in realtà un macigno perché nel 30 gliel'ha dimostrato che il programma non era realizzabile a forza di naturalmente manipolare e usare questi formalismi Hilbert è stato criticato o comunque come formalista comunque rappresentato come esponente leader della corrente formalista in matematica ma il commercio con i formalismi di Hilbert era strumentale a quel tipo di dimostrazione che vi ho detto quando lui ha siomatizzato teorie matematiche e fisiche non le ha mai formalizzate alla piano per intenderci e comunque basta una frase per capire che è una leggenda questa del formalismo di Hilbert la matematica non è un gioco i cui obiettivi siano determinati da regole arbitrariamente stipulate piuttosto è un sistema concettuale che possiede una necessità interna che può essere solo così e in alcun modo diverso adesso brevemente qualche notizia così abbiamo un po' esaurito il panorama dei suoi lavori tecnici qualcosa sulla sua personalità sulla sua vita c'è un episodio che mi sembra significativo nel 1928 la comunità matematica internazionale decisa di porre fine all'ostracismo che era stato rivolto ai matematici tedeschi a seguito alla prima guerra mondiale e invitando a invitandoli a partecipare al congresso internazionale che si teneva a Bologna i tedeschi non erano tutti d'accordo alcuni per esempio Biberbach che però è diventato poi un nazista ma anche curiosamente Brauwer che era un olandese però era un filo nazionalista tedesco Hilbert si batte perché la società accetti l'invito mandi una delegazione e anzi decide di guidarla lui stesso nonostante sia malato di una malattia debilitante che era l'anemia perniciosa e a Bologna fa tra l'altro queste affermazioni mi rende molto felice il fatto che dopo un lungo pesante periodo tutti i matematici del mondo siano qui rappresentati è un completo fraintondimento della nostra scienza costruire differenze tra popoli e razze e le ragioni per cui questo è stato fatto sono meschine matematica non conosce razze per la matematica l'intero mondo è un solo paese Herman Weill ha riassunto l'insieme dei valori di Hilbert dicendo che era singolarmente libero da pregiudizi nazionali e razziali in tutte le occasioni pubbliche fossero politiche sociali o spirituali è stato sempre dalla parte della libertà infatti per esempio nel 17 quando sa della morte in trincea di Darbu scrive un necrologio e viene attaccato dagli studenti nazionalisti che gli assediano la casa per farglielo rinnegare cosa che certamente non fa d'altra parte all'inizio della guerra si era rifiutato di firmare uno di quei soliti appelli dell'intelligenza che sosteneva che la Germania non aveva responsabilità nello scoppio e nella conduzione della guerra possiamo aggiungere all'osservazione di Weil che Hilbert non aveva pregiudizi di genere lo dimostra il caso di Emmy Noether che fece venire a Göttingen e cercò di farle avere l'abilitazione perché potesse insegnare incontrando molte resistenze nei colleghi che sostenevano che se avesse insegnato poi avrebbe potuto partecipare alle sedute del Senato a cui Hilbert rispose ma signori il Senato non è mica un bagno pubblico non aveva neanche pregiudizi non rispettava le convenzioni sociali i suoi colleghi tenevano le distanze dagli studenti lui invece era molto in grande familiarità con loro partecipava insieme a loro a delle gite purché naturalmente amassero la matematica di uno studente che aveva abbandonato gli studi e poi gli dissero che si era dedicato alla poesia commentò che aveva fatto bene perché non aveva abbastanza immaginazione per fare il matematico e i premi è chiaro che ha avuto nella sua vita una serie di riconoscimenti voglio solo ricordare che dal 29 al 33 è stato sempre nella rosa nella rosa ampia per il Nobel in fisica va in pensione nel 30 anche se insegna fino al 33 nel 33 viene in visita a Göttingen il nuovo ministro dell'università del governo Hitler e a cena chiede a Hilbert come va la matematica a Göttingen adesso che vi stiamo liberando della nefaste influenza giudaica e Hilbert risponde a matematica a Göttingen non c'è più niente di matematica è una figura tragica oltre che luminosa perché vedete ha fatto per 30 anni di Göttingen il centro mondiale tutti andavano a Göttingen perché c'è Hilbert e alla fine la vede ridotta a un deserto aveva concepito questa grandiosa idea per dare stabilità e sicurezza alla matematica e anche questa non si è realizzata lui però era come personalità ottimista gli piaceva ballare fare la corte alle signore mogli dei colleghi che chiamava le sue fiamme e veniamo infine un minuto finito a noi ma è già stato detto diventa socio corrispondente della nostra accademia nel 1903 questa è la lettera con cui ringrazia e esprime la sua gioia e il suo onore per essere membro dell'accademia di un paese che ha prodotto una così lunga serie di notevoli matematici e non solo soprattutto che nel tempo presente è ancora in così grande fioritura diventa socio nazionale socio straniero a pieno titolo nel 1933 a me questo lungo intervallo di tempo ha sorpreso e incuriosito perché nel 1933 ormai era non solo in pensione ma la sua figura cominciava un po' a sbiadire inevitabilmente certo bisognerebbe esaminare tutti i verbali per vedere se il suo nome sia mai stato fatto qualche altra volta in questo intervallo c'è da dire che c'erano state delle frizioni non da parte sua ma da parte di Peano e i suoi allievi nel 1904 per il premio Lobaceschi della società matematica di Kazan Peano aveva proposto Pieri presentandolo con una lusigniera lettera facendosi forza di un giudizio di Russell che però si riferiva al complesso dell'attività di Pieri mentre il premio era per un'opera singola e infatti fu dato a Hilbert per la seconda edizione 1902 delle Grundlagen ci furono in totale dieci edizioni via via arricchite ma ancora prima a Parigi al sentire il secondo problema di Hilbert pare che Peano abbia borbottato che era stato già risolto dal suo allievo Alessandro Padoa Padoa il giorno dopo doveva presentare una comunicazione sui sistemi assiomatici dei numeri nella sessione presieduta da Hilbert ma aveva un'altra comunicazione in simultanea optò per la seconda rinviò di un giorno alla prima ma il giorno dopo Hilbert non era più presidente quindi non si incontrarono e in seguito Padoa spesso recriminò anche in modo un po' maleducato sul fatto che Hilbert si rifiutava di riconoscere che lui aveva risolto il secondo problema il fatto è che nel lui nepeano avevano capito il senso delle dimostrazioni di Hilbert Pieri sì e ha cercato di spiegarglieli ma inutilmente comunque l'importante è che finalmente nel 1933 Hilbert sia diventato socio della nostra Accademia perché è un onore per l'Accademia averlo avuto questa è la tomba a Göttingen alla base sono incisa la frase con cui termina quel intervento radiofonico di cui abbiamo sentito l'inizio che termina con la frase che invece dello stolto ignoramibus il nostro motto è noi dobbiamo sapere noi sapremo che adesso risentiamo dalla sua voce stati dire molte cose e ha fatto un riassunto in estremo perché c'è troppo in Hilbert però ha ricordato i punti cruciali veramente importanti di questo Everest della matematica grazie ancora grazie a tutti grazie a tutti